qua io auguri di buon natale e mi sembrava il modo migliore per farvi gli auguri con un video chiamato l'albero di natale è un pene allora sarà che io comunque tendenzialmente odio fare gli addobbi odio il doverli mettere a posto dopo odio il dover aprire gli alberi dover mettere le luci il dover tutto questo qua mi danno fa come tutte le cose diciamo minimamente pallose mi appallano e quindi solito lo faccio fare lo fanno loro le quelle della mia famiglia il presepe mi piace che comunque c'è un po di creatività tipo ne fece una volta uno proprio che fece proprio le statuine anche insomma fu bello comunque il punto è perché l'albero di natale è un pene e ve lo voglio dire proprio perché così voi quando ora vi metterete a fare l'albero di natale a natale ci penserete direte cazzo ma quindi sto fa un pene allora praticamente tutte le palline che voi mettete questi fiori eccetera originariamente il rito dell'albero di natale era un rito pagano un rito romano in cui si utilizza proprio un albero e si festeggiava diciamo il fatto la dea cerere quindi per la fecondità eccetera eccetera e si riempiva questo albero delle peggio cose cioè si ballava intorno a st'albero gigantesco si buttava sangue di animali fiori e decorazione di ogni tipo però non proprio così pulite e cinesi come quelle che siamo noi ma molto più cruente diciamo molto più rituali ecco diciamo così questa cosa la so perché mi obbligò a farla come ricerca la mia professoressa di italiano al liceo e la cosa che mi incuriosì diciamo tra virgolette è il fatto che io ci raccontai tutta la storia si il sangue di capro e bla 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 e lei mi disse no sì ma hai capito qual è il significato hai capito hai capito qual è il punto è che lei voleva farmi dire per forza perché l'albero come simbolo di fecondità perché l'albero è un simbolo fallico ora se magari qualcuno di voi è esperto e mi dirà che non è così questo è quello che mi ha detto lei e la cosa che mi ricorda oggi si dice cringe comunque sicuramente la sensazione di imbarazzo nel dover dire il fatto che dovevo dire forza sto fatto che era un pene cioè il punto era questo immaginatevi questa vecchia dalla cattedra che mi doveva costringere a dirmi ma perché hai un problema a dire questa cosa perché così ovviamente non ero neanche grandissimi cioè forse faceva il terzo superiore il secondo superiore che dovevo parlare di sto pene gigante pieno di sangue di animale e lei quindi non so forse un rapporto durante i giorni del mestru vabbè no scala era brutta facciamo stare c'è a fine che non l'ho detta e quindi questa cosa io dovevo dire forza ma tutti quanti poi che ero pure la persona diciamo così che si faceva troppi problemi perché non possiamo parlare di un pene a parte questa qua è la professoressa che odiavo vi dico solamente una cosa di questa professoressa ok che lei magari parlava naturalmente di un pene perché non so forse aveva questa libertà sessuale oppure semplicemente aveva degli istinti in quel momento che la portavano a pensare a un pene ma vi posso dire una cosa lei durante un compito di latino mentre stavamo lì a cercare di capire se cicerone voleva dire unc o voleva dire inc non mi ricordo niente di latino però non fa niente lei si toglieva i peletti dei baffi quindi già era difficile concentrarsi sulla versione figuratevi con una vecchia che intanto si sta togliendo i baffetti davanti a voi